Quando la fiction interroga il passato, quando diventa periodrama, serie storica, in realtà non agisce soltanto sulla memoria, sul ricordo o sulla storia. Funziona, è efficace, può davvero aiutare quando ci consente di riflettere sul presente, cioè quando riesce a sviluppare una funzione indiziaria. Una serie è sempre rivolta al pubblico del presente. Quello che può fare è portare a interrogarlo su come ciò che è accaduto in precedenza gli possa far capire qualche cosa del suo sistema socioculturale, del suo frame, del suo oggi e magari anche farlo riflettere o aiutarlo a pensare a quello che potrebbe accadere in futuro. Un po' provocatoriamente io consiglierei American Horror Story, che è una serie in molte stagioni che diventa a tutti gli effetti una vera e propria storia americana, una storia americana filtrata attraverso il genere dell'orro, quindi della paura, quindi del rimosso che ritorna. Lo fa passando in diverse epoche storiche e soprattutto lo fa fino a interrogare l'oggi. Mettere in relazione quel passato che ritorna, davvero come se fosse un inconscio al quale non si può scappare, è un modo eccezionale per capire il presente. L'intervento di oggi si è centrato su una serie recentissima dell'anno scorso, che è Mindhunter, è una serie ispirata a una vera storia, cioè quella del primo profiler criminale della storia americana, è una serie ambientata nel 1977. Fa tante cose, intanto pone un problema, quegli anni 70 negli Stati Uniti sono un'epoca della totale non comprensione, non si capisce come funziona il funzionamento di una mente criminale, di un serial killer e non si capisce che cosa sta succedendo in quegli anni e perché. E poi ha un twist in più, riesce a ragionare, a fare una specie di lettura metateorica su come oggi si dovrebbe scrivere o si potrebbe scrivere una fiction di genere crime, come il racconto verticale, quello orizzontale, dialogano fra di loro e stabiliscono un patto con lo spettatore.